I corchi sono una delle razze di cani più conosciute, non solo per il loro aspetto simpatico, ma soprattutto perché sono i cani preferiti della regina Elisabetta. Proprio grazie a lei, da semplici cani da passone sono diventati dei membri della famiglia reale. Vuoi saperne di più? Non perditi questo nuovo video di Animalpedia! In passato, gli antenati comuni del Welsh Corchi Pembroke e Cardigan venivano usati nel sud del Galles come cani da guardia o da pastore. La razza Cardigan venne sviluppata nel Cardigan Shire, mentre la Pembroke nella contà del Pembroke Shire. Entrambe, appunto, prendono il nome della zona in cui vennero create. Le razze sono state considerate come una sola fino a 1934, anno in cui vennero divise. A partire da questo momento, la popolarità del Welsh Corchi Pembroke crebbe, mentre quella del Cardigan diminuì. La regina Elisabetta, essendo una grande appassionata della razza, iniziò ad allevarla, facendola diventare ancora più famosa. Sia il Welsh Corchi Pembroke che il Welsh Corchi Cardigan vengono considerate razze di medie dimensioni, caratterizzate da un corpo piccolo e robusto. Il muso e la forma del viso di questi cani ricordano una volpe, data l'espressione vista e intelligente, e l'orecchio dritte. Esistono alcune differenze tra le due razze. Il Welsh Corchi Pembroke è leggermente più piccolo, con un'altezza algarrese compresa tra i 25 e i 30 cm, e un peso che oscilla tra i 10 e i 12 kg. Questo cane nasce con la coda attorcigliata o senza coda, mentre il Welsh Corchi Cardigan ha la coda lunga e dritta. Il Welsh Corchi Cardigan è leggermente più grande, con un'altezza algarrese di circa 30 cm. Non è indicato un peso ideale, ma deve essere ben proporzionato in base alle sue dimensioni. Il colore del pelo può essere di tantissime combinazioni, merle, striato, rosso, sabbia o tricolore. Il Pembroke, invece, solitamente a bianco con macchie rosse o fulve, o tricolore, con macchie rosse, nere e bianche. Le razze hanno un carattere molto simile. Sono cani attivi, intelligenti e vispi. Sono socievoli e amichevoli con le persone, e molto leani nei confronti della famiglia. Come la maggior parte dei cani da pastore, i Welsh Corchi hanno bisogno di fare molta attività fisica e di essere stimolati mentalmente. Inoltre, non amano stare da soli. Uno dei principali problemi di queste due razze è che tendono ad abbagliare molto, anche se si tratta di una conseguenza della solitudine e della mancanza di stimolazione fisica e mentale. Prendersi cura del pelo di questi cani è semplice. Basta pettinarli due volte a settimana e non è necessario lavarli spesso. Molto importante, però, è l'esercizio fisico. L'ideale sono due o tre passeggiate al giorno, accompagnate da momenti di gioco. Si tratta di cani intelligenti che imparano facilmente ciò che gli viene insegnato. L'addestramento canino non è utile solo per la sicurezza del cane, ma serve anche per rispondere alle esigenze di stimolazione mentale. È fondamentale far socializzare queste razze quando i cani sono ancora cuccioli, con ogni tipo di persona, animale o ambiente con cui avranno a che fare, o evitare che crescano timidi, diffidenti o anche aggressivi. Le migliori qualità dei corgi spiccano con l'addestramento in positivo, mediante il quale è possibile insegnare al cane i comandi di base, dei comandi avanzati o esercizi di abilità canina. I corgi tendono a soffrire di alcune malattie canine, come la displasia dell'anca, l'atrofia progressiva della retina o la mielopatia degenerativa. Bisogna fare attenzione anche all'obesità, che può favorire la comparsa delle lesioni alle articolazioni, osteoartrite e altri problemi degenerativi. Per prevenire e individuare qualsiasi tipo di malattia, dovrai portare il corgi dal veterinario ogni 6 o 12 mesi, rispettare il calendario delle vaccinazioni e dei trattamenti parassitari interni ed esterni. Se ti è piaciuto questo video, metti un pollice in su, iscriviti al canale e lascia un commento per suggerirci cosa ti piacerebbe vedere nel prossimo video di Animalpedia. Alla prossima!